Ma dove stanno andando? Al bingo? Ciao a tutti, bentornati a Resident Evil 4 Remake dal Picciono, è tornato il nostro carissimo Picciono, e da una Ashley romantica con occhiali, invece al Picciono io ho tolto gli occhiali così si vedono gli occhi sparaflescianti di rosso. Allora, abbiamo sistemato, fatto acquisti, non ho messo in ordine qui la varigetta, porca puzzola, vabbè, comunque, sta abbastanza in ordine, dai, ci possiamo accontentare, abbiamo il coltello rotto, forse lo dobbiamo aggiustare? Dunque, potenzia, riparazione, mazza, 3800 pesetas Non dimenticarti, mi raccomando, trattalo con cura Lo vogliamo potenziare? Resistenza Va, 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 bando, eh, sì, sì, ciao Giccio, abbiamo fatto tutto, salverei di nuovo, salverei di nuovo Ehm, sì, qui, damose, damose Allora, ok, siamo belli carichi a pallettoni Qui fuori abbiamo preso tutto, mi pare Eh, ma dietro di noi c'è San Tesoro, scusate, ma dove cazzo lo è? Ah, eccolo qua Benissimo Damose Ci stai dietro? Qua c'è un bigliettino Rafforzate le difese, questo è un ordine diretto di Lord Sadler L'area antistante va convertita in una posizione difensiva Così da bloccare i possibili intrusi Sono disposto a qualsiasi sacrificio per il bene della retta fede Miei fedeli devoti, costruite per me una fortezza inespugnabile Fate in modo che qualunque civile abbastanza stupido Da violare i nostri confini Paghi i suoi peccati scellerati col sangue Senz'altro Non me lo segno No, qui non c'è nient'altro, no? Damose Vedete che abbiamo lasciato tutte quelle cose lì al villaggio, vabbè Abbiamo compagnia Continua a camminare, ma fai piano Fai piano, fai piano Allora Senti, stai qui No, stai qui Zitto lì Ah, non ti ho detto di rimanere lì No, vabbè, ma questa è proprio credina Allora, aspetta, vieni un po' Aspetta, vediamo un po' Dunque, noi dobbiamo andare di sopra Cioè, di là Dritto Dritto di là Va di qua Dove se va Allora, lì innanzitutto Allora, proviamo a usare Las balestras Mamma mia, sta mira ballerina La riccio pet Ma che ho preso? Ma non la piglio Dai, sei da fuoco da sola, signora Granderrima No, questo da qua non lo piglio Però con questo Preso Ce n'era uno qua sotto Che mo' non vedo più, però Allora, vieni Cretina Damo se Allora C'è sta De roba Qua No, come un forazero Mortacci, stracci ostri State boni, boni, boni No Porca Signora No Ho fatto una cappellata Volevo dare un caccio a quella Oh, ma chi dai cazzotti Cretino di un forazero Ok Scegliamo tutto Ok Presumo che tu sia bene Vero Ashley Posso dire Vabbè Che dovemo fa? Eh, stai bene, stai bene Qualcuno Qualcuno sarà contento Tipo il tuo papi Il tuo papi Allora Qui che cosa abbiamo? Risorse Risorse Ok Attenzione Altre risorse No Va bene Andiamo Andiamoci No, ma Cioè, vabbè, ma Non si commenta Le volte che sto finita Nei trappole Non si commenta Ok Granata Ok Vieni Potresti anche dirmi Dove sono le trappole Guarda C'è una trappola qui Ashley Vuoi mettere il piedino? Piedino? No? Vabbè Allora Qui c'è niente? No Possiamo proseguire Però io volevo andare Ah, vabbè Ma allora Sei proprio un cretino Cioè, proprio Rincoglionito Cioè, rincoglionito Peggio di me C'è un'altra trappola là Vedi che poi fa? Ma lì sopra Come si va però? Io volevo prendere La roba che sta là Non la piglio Allora Qua c'è un barile Vabbè Non ho parole Cioè Ma veramente Non ho parole Crea Crea Olè Poi 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 Facciamo spazio E Ci dovremmo curare In realtà Ci dovremmo curare Aspettiamo un attimo Se sta un po' attento Però ciccio Vero Allora Guardiamo per terra Va E' meglio Me sa Invece che guarda per aria E cercare di capire Come andate sopra Guarda Asce Metti un piedino qui Ciccio Vieni Metti un piedino lì No Vabbè Allora Damose Stiamo messi bene Però devi stare attento Leo Perché Mo C'hai Poca vita Quindi Cerchiamo di Mantenerci A distanza Di sicurezza Da tutti Per cortesia Ma Imor Saci Saci Tua E Ma Ah E' Motto Menomale Il coltello potenziato Devo dire Che fa Grandanno 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 Calice Despiazione C'è nient'altro Qui c'è un barilotto Ok C'è nient'altro No Una granata Qui c'è una granata Frecce 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 Ok Brava Stai lì come uno stoccafisso Che stai messa bene Damose Allora Apriamo questi barili La Vediamo se possiamo fare qualche munizione Munizione di pistola Possiamo fare Possiamo fare munizione di pistola Ok Mi sento più tranquilla Tranquilla e motto Però vabbè Guarda per terra eh Sennò mettiamo i piedi Dove non dobbiamo metterli Io vado piano piano Perché Ecco vedi Qui ci dobbiamo andare Perché Perché ci dobbiamo andare Ma perché Se noi andiamo qua C'è una porta Ah no Non c'è una porta Dobbiamo andare qua C'è un tesoro E Il Qui è tranquillo Tranquillo Ma Ma stai scherzando Ma non li senti Sei cretino Non li senti Leo Ma perché fate Tutti questi versi Ragazzi Fatemi capire Scusate Posto di controllo Ma qui non c'è una ceppa Però Oh sì Sì Ok Ma Ma le munizioni Di la mitra Ma dov'è 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 Vedete qua Vedete qua Corri corri Damose 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 Uh ma lì c'è Uno scrigno Da prendere Absolutely Dove si sale E dove si Dove si sale Per andare là Porca puzza Una fasciatissima Io devo andare da là Eh Ma Vabbè Non perdiamo tempo La sciampeade Sciampeade Allora Abbiamo detto Che dobbiamo andare De qua Ciccia eh Sei pronta Oh Attenzione Ci sei Allora Lì c'è un altro Guarda che t'ho visto Cretino Ah Vedina Ok 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 Aspetta un po' Vieni su con me Munizioni Munizioni Benissimo Vediamo se c'è altro No Vieni un po' su Allora Viantina Ci serve Come il pane Cassa Rotte Forse da qua Arriviamo anche A quella A quello scrigno Che ho visto da sotto Può essere Che però Io non mi fido Non mi fido Per niente Permesso Ok Ashley Vai Mettete dentro Chiudite proprio Ok Vai 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 Chiudite dentro Chiudite Ecco Rimani lì Io me ne Me do Me do Ok Ok Che è sto casino Qui c'è qualcosa Munizioni Pistola Ok Ok l'altarino Sta qua Benissimo Vai Vai Fermaglio Elegante Adesso Può mettere Ashley Super Maglio Elegante Che dite Le munizioni Stanno giù Sei lì Eh Qui che c'è Oh no Grandioso Ma what Scusate Scusate Non sapevo Fosse vostre Sono onorato Ma preferisco Una per volta Dai Finalmente Manuella Manuella Oh no Mi scusi eh Ma lei che cosa Ci fa qui Dai Leo Granderrimo Oh Ammazzo Ecco dai eh Oh no Oh no Oh dai Quando ci si mettono Tutti quanti insieme È un bordello Proprio Un bordello È ovviamente La salute massima La vaffan Cuore Volevo Combinare Vabbè Non detto Vabbè Però possiamo Stare un altro po' Eh La vaffan Loro Leo Allontana Lì Scappa Scappa Davos Davos La vaffan Loro Leo Guarda se non more Mosso Cretino Mamma mia Si è bradipo Si è bradipo Ammazzo Leo Quando Vi ci mettete Siete proprio A chi è stas Eh A chi è stas Che Ma perché sei scesa Che tu Ti ho detto Ti scende Cretina Boh Vabbè Spray medico Ok Poi Poi Abbiamo preso Stama novella Ma stama novella Che ci serve Non ho capito Guarda questa Com'è morta Con la gamba All'insù Vabbè Allora Qui non c'è nient'altro No Quindi si potremmo Si potremmo Si potremmo Qui che c'è Ok Tegliamoci tutto Aspetta Fammi vedere qua Si va dalla stessa parte Si Ah ok Questa era una shortcut Che si apriva da là Ma no No Si apre Si apre da 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 là Allora Adesso Vabbè Apriamo Una shortcut Gatto Ok Allora Adesso Possiamo andare Per di là Che non è Per di qua Ma è Per di Mi sono persa È per di qua Sì A sinistra Ed è qua Giusto? Yes Ok Vamose La manovella Ah ecco Che serviva La manovella Quindi anche se Prima venivamo qua Non potevamo Fare niente È un peccato Che tu sia bene Sei abituata A scappare dai matti Eh sì Non capisco Se è un complemento Non è un complemento È Boh Una cazzata Che ha detto Leo Io Non c'entro niente Mappa Aggiornata Ok Vediamo un po' Ci stanno Trappole? Ricarica Va Ho visto qualcosa Cadere? Ah no Non è niente Di importante Un po' più di sportiveggianza Ciccia Qua ci stanno Due barilotti Qua ce ne sta uno Ok Come si entra qua dentro? Da qua sopra? Ok Vediamoci tutto Ok Poi passiamo in perdi qua Qua ci sta Una granata stordente Qua ci stanno proiettili Ok Facciamo un check Facciamo un check Vediamo un po' Se possiamo combinare Questa con Con questa Ok A posto Spostiamo Ule Poi Possiamo fare Cosa? Creiamo Munizioni per pistola? Absolutely Cioè C'abbiamo la pistola GG Poi Cosa possiamo creare Munizioni carabina Ma Però le munizioni per la carabina Ce l'abbiamo Beh Eh Ce ne abbiamo 30 Cioè posso dire Frecce per il lancia frecce Dopo quelle separate È possibile recuperarle Vabbè Sparate no Separate Vabbè E Mini adesive Equipaggio con LS Mentre midi con il lancia frecce Ah Atevista Dobbiamo provare Assolutamente Dobbiamo provare Se munizioni per la mitaglia di arice Me ne devo vendere Ok Allora Aspetta Tipo no Ah Vedi Potrebbe tornare utile Molto utile Eh no Ci siamo dimenticati La polvere da sparo Eccola qua Damose Damose Ciccia Damose Bene Andiamo Ok Porca puzzola E niente Ogni volta lo fa volare Posso dire Musare via Guarda Ecco Da là non si passa più Sicuro Vieni Figlia mia Ma quale figlia tua Run Run Presto Scappa Degli abitanti Del villaggio Non pensare al oro No pensare al oro No pensare al picadillo Dalle 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 Tutto Il Pontero No Sono morta Ma che cazzo Era la De urli Io boh Ma veramente Fa questa Di qua Di qua Di qua Ma chi è Stas Tutto ok Non essere Dobbiamo andare Non ci credo Libera Ok corri Beh c'è andata delusso Per un pelo Per un pelo Veramente Oh oh Ah sta dall'altra parte Bene bene Ok Le mini adesini Si possono sparare Anche addosso ai nemici Eh Benissimo Eh ma porca Vuzzo Abbiamo lasciato roba Immaggia Ascoltami È te che vuole Se lo incontriamo di nuovo Scappa Infatti E tu che farai Farò il mio lavoro Che sarebbe proteggerti Il mio lavoro Capito Purtroppo 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 Sarebbe proteggerti Dai un'occhiata Qualcosa catturerà La tua attenzione Allora Aspetta un attimo Vediamo un po' Se possiamo Comporre qualcosa Penso proprio di no Purtroppo Penso proprio di no Allora possiamo mettere Questa No No aspetta Ho sbagliato Questa Ok Poi possiamo mettere Questa Ok E poi basta Perché non ce ne abbiamo Un'altra Quadrata Però possiamo vendere Questa Benvenuto Abbiamo una bella selezione Di articoli in vendita Straniero Ok Grazie Volevo vendere Le munizioni Per la mitragliatrice Ecco Perché Io non ce faccio Una ceppa proprio Non ce l'ho La mitragliatrice E non ho neanche Vaffanlopo va Attenzione di comprarla È stato un ottimo affare Lacrima viola Bene Bene Mi sarà certamente Utile a qualcosa E basta Basta Direi Basta A posto Potenzia Niente Oh Ma che fai Vomini Le tue armi Sono in buone mani Amico Non te stassà Allora Capacità Io Mentre la capacità Sei impressionato Vero La nostra maestria Non lascia indifferenti Ecco a te Basta Come desideravi Bene Che posso fare Per te Niente Ciccio Niente Grazie Tornerò Sicuramente Salvataggio Fuggi dal villaggio Salviamo qua Ok Allora Le pesetas Dai Allora Ashley Si pronta Si pronta Ma io direi che però Possiamo anche Chiudere qui per oggi Si 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 Direi proprio di si Allora Proseguiremo da qui Stiamo scappando dal villaggio Come se non ci fosse un domani Il picciono E la romantica Ashley Che devo dire che così Fanno una coppia Quasi scoppiata Perché insomma Bianco e nero Ci sta Ci sta Quindi un saluto a tutti Dameda esce Dallo Stranger E ci sentiamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Un autore della battaglia Di si appiccicato a donne Ciao a tutti